Sono Willis, quassù alla centrale elettrica sembra che ci sia un problema. Deve essere la nuova stazione radio che trasmette. Vado a dare un'occhiata in giro. Che cazzo? Santo cielo! Oh, che diavolo! Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? guarda che cosa hanno combinato dentro il mio studio il mio trasmettitore non è un'altra cosa non è una cosa non è una cosa Grazie a tutti.